La settimana mondiale delle vaccinazioni, quest'anno dal 24 al 30 aprile. L'iniziativa nasce dalla necessità di aumentare la consapevolezza sull'importanza delle vaccinazioni nella prevenzione delle malattie infettive e quindi nella protezione della salute. Si parla soprattutto di quelle persone maggiormente vulnerabili, quindi pazienti con patologie croniche, pazienti con patologie che richiedono trattamenti immunosoppressivi. Graziella Soldato, direttrice Unità Operativa Complessa, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica. È importante recuperare da queste persone perché queste persone sono ad un rischio maggiore di infezione e quindi anche di complicanze dovute a queste infezioni. Quindi è importante recuperare principalmente queste persone. Noi infatti in questa settimana ogni giorno ci recheremo presso gli ambulatori specialistici dove ci sono i pazienti che si recano lì per i controlli e dopo una discussione, chiaramente una confronto con lo specialista di riferimento, li invitiamo alla vaccinazione. Covid preoccupa ancora? Preoccupa quelli che sono fragili e vulnerabili soprattutto, quelli che sono più esposti alle infezioni e parlo di questa categoria di pazienti che necessitano dei richiami come stabilito dagli organismi sanitari internazionali. Quindi è importante che anche queste persone facciano i richiami, le quarte e le quinte dosi verso cui siamo ancora indietro. Infine il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, sottolinea l'impegno, soprattutto il grande sforzo appunto della ASL che ha investito in questi anni in risorse umane ma anche in attrezzature. Investimenti anche in attrezzature perché quando siamo arrivati qui abbiamo trovato attrezzature dell'82. Oggi stiamo facendo uno sforzo importantissimo e questo è il nostro senso, quindi un investimento in risorse umane e in attrezzature. Grazie. 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 Grazie a tutti.